Beatrice Io volevo ricordare a Cesara che Javier fece un passo indietro quando si rese conto che lei forse non era così presa e lei tornò su di lui, ma proprio fisicamente su di lui, spinta anche da Lennonella Rai e anche un pochino prendendola in giro. Dopodiché lui gli chiese apertamente di non prenderla in giro sui propri sentimenti, lei continuò, quindi queste cinque notti lì dentro valgono molto di più e secondo me un po' più di umanità, empatia rispetto al suo dolore. Bisogna ammettere, e per fortuna lui ha una grande autostima, è molto solido e quindi ha retto bene. Per quanto riguarda invece Shaila e Lorenzo, io credo che ci sia, è ovvio, è evidente che ci sia una passione, non c'è dubbio, ma c'è anche un esibizionismo spregiudicato. Loro sanno molto bene dove sono posizionate le telecamere. Va bene, ma sono due ragazzi belli, giovani, fammi una cosa sola, ma dai, ma è la prima volta che vedete due che si attraverano in questo modo, ma veramente, ma adesso, scusa, ma dobbiamo fare l'atteggiamento moralistico qui al grande fratello.